Quante volte ti devi lavare i denti al giorno? Questa è l'argomento della seconda puntata dello Spaccamiti Dentali. Una delle domande che tutti fanno, a cui nessuno mi ha dato risposta, è quante volte devo lavarmi i denti durante il giorno? Ebbene, possono essere tantissime le risposte che emergono dal web. Una volta al giorno, due o tre volte al giorno, tante volte al giorno, una volta ogni due o tre giorni, quando c'ho voglia, quando c'ho l'olito cattivo, eccetera, eccetera. La risposta, in verità, anche qua è molto semplice. La ricerca mostra che i denti vanno lavati quantomeno due volte al giorno, dopo i pasti principali. Vanno lavati però in modo corretto. La tecnica corretta è di utilizzare lo spazzolino per almeno due minuti durante la manovra di spazzolamento, con una tecnica possibilmente chiamata di BAS. Usando lo spazzolino elettrico, lo spazzolino manuale, che sarà l'oggetto di un altro video. Vanno spazzolati non solo i denti, ma bisogna anche pulire correttamente, soprattutto gli spazi interdentali, gli spazi fra i denti, che sono le zone più critiche che proprio lì si vanno a lidare più facilmente i batteri che possono causare sia i problemi alle gengive, sia le carie, che sono purtroppo molto fastidiose. Inoltre, facciamo subito un altro mito che dobbiamo assolutamente rompere, quello del tartaro che si autoforma, chi produce tanto tartaro. Tantissimi pazienti vengono e dicono che i dottori sono un grandissimo produttore di tartaro. La realtà è ben diversa, perché la placca si inizia a cumulare subito dopo che ci laviamo i denti. Questo è vero ogni volta che mangiamo, con la saliva e tanto altro. Però, per far sì che diventi tartaro, deve rimanere indisturbata su un punto per circa due settimane. Per questo motivo, mi dispiace deludervi, ma non è vero assolutamente che la vostra bocca produce tanto tartaro, ma bensì che magari lavate sicuramente i denti anche due o tre volte al giorno, ma non con la tecnica corretta. Quindi non riuscite a rimuovere efficacemente la placca che si trasforma in tartaro, che poi da solito non rimuovete. E per questo motivo è di doveroso andare dal dentista o igienista. Come imparare a lavarmi i denti correttamente? A parte i tutorial su YouTube, affidatevi al vostro dentista o igienista che mi insegnerà in modo corretto gli strumenti, le tecniche e tutti i trucchetti per tenere cura della vostra bocca. Ciao e al prossimo mito da rompere!